Penso che comunque loro hanno dei grandi meriti nel primo set, hanno iniziato ad attaccarci in battuta dal primo punto in maniera molto aggressiva e noi abbiamo fatto un po' di fatica a tenere un buon cambio palla e il ritmo lì. Poi dopo dal secondo set ha iniziato a girare il nostro cambio palla, la Ricci è andata molto bene e ci ha un po' cambiato la partita. Ho fatto 5 allenamenti con la squadra e questa è la mia prima partita dopo quasi un mese e mezzo abbondante, quindi si può solo migliorare nel senso che sapevo che sarebbe stata una partita difficile perché comunque quando non hai ritmo gara e non hai soprattutto neanche ritmo allenamento è sempre difficile, però sono contenta di aver piano piano trovato delle sicurezze. Vincere è sempre bello, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo sfruttare la mattina libera di domani, sfruttare l'allenamento di domani perché ogni allenamento è importante per chi come me non ha ritmo partita e ritmo di gioco e poi dopo pensare alle altre partite.